Sono domande di intelligenza Vi intanto suggerire Tra di voi L'unico che può suggerire è il capo squadra L'unico che può suggerire è il capo squadra L'unico che può suggerire, gli altri no Quei tempi Vi siete messi d'accordo? Ok? Prima domanda La primavera inizia sempre il 21 marzo Sbagliato In realtà la data è variabile Perché la primavera astronomica inizia il giorno dell'equinozio E l'inizio ufficiale di una stagione Si stabilisce a partire dalla posizione della Terra rispetto al Sole Le date esatte Le finanze sostizio pertanto dipendono dalla rivoluzione della Terra Grazie a tutti